Ben trovati in aggiornamento con il TGD3B, partiamo dal satellite, possiamo notare questa irruzione di aria fresca nord atlantica dalle isorie britanniche sull'Europa centrale con clima più autunale che l'estivo e poi anche l'Italia, sono già in atto dei rovesci in alcune zone del centro nord. Nel dettaglio poi la situazione per sabato, intanto nelle prossime ore temporali al centro nord e poi in serata anche il basso tirreno, sabato possiamo vedere altri fenomeni temporaleschi occasionali al centro sud e anche in mattinata sul nord est, poi al settentrione migliora nella seconda parte del giorno. Temperature in calo sulle regioni meridionali per la tramontana, il maestrale che sarà anche a tratti forte. Per quanto riguarda domenica più sole, torna un po' di bel tempo anche sulle due isole maggiori, mentre i locali temporali del pomeriggio sull'Appennino meridionale e poi in serata il nord est, pianure nord orientali, per ancora infiltrazioni di aria fresca dal nord Europa. Ma con la nuova settimana arriverà l'anticiclone africano, almeno da metà della prossima settimana in poi. Quindi insomma tutta la settimana vedrà condizioni di stabilità ma con caldo in accentuazione da mercoledì verso il prossimo weekend. Qualche locale temporale di calore da segnalare solo sui monti. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo o sul nostro sito web.